Quanti soldi avresti se avessi investito 1000 euro in generali un anno fa? A luglio dell'anno scorso avresti avuto 1000 euro, a settembre 1209, a novembre 1146, a gennaio 1233, a marzo 1030 euro, a maggio 1188, a giugno 1099, mentre oggi avresti 1000 euro. Questa volta siamo in perfetta parità, con un prezzo delle azioni di circa 15 euro, purtroppo il titolo non è coperto da analisti, quindi non sappiamo se sia un momento per comprare, vendere o mantenere, quindi boh però seguimi se vuoi sapere di più.